Buona domenica, primo maggio. Festa del lavoro. Il Vangelo di oggi ci riporta un terzo episodio di non riconoscimento di Gesù da parte dei discepoli. Lo riconoscono, lo intuiscono, ma non lo riconoscono. Sono sulla riva del lago di Tiberiade e Simone Pietro invita ad andare a pesca. A quella notte non prendono nulla e quando ritornano trovano Gesù e non lo riconoscono. Gesù dice loro di gettare le reti sulla destra della barca e a quel punto raccolgono moltissimo pesce. Altri poi ritornano con le barche piene nelle reti di pesci, tanto che faticano a tirarli a riva. A quel punto Gesù invita la convivialità, a dividere il pane e i pesci, gesto supremo attraverso il quale i discepoli riconoscono nello spirito la presenza di Gesù, anche se non lo riconoscono fisicamente, non osano chiedere chi sei. Lo intuiscono ma non osano chiedere. Si genera una condizione che caratterizza la nostra esistenza. Noi forse in qualche momento intuiamo la presenza di Gesù ma non lo riconosciamo. I discepoli in quel caso si sono lasciati convincere, hanno ascoltato quella parola che li invita a gettare le reti per raccogliere i pesci e lo riconoscono soprattutto nel gesto della condivisione. È lì che noi dobbiamo riconoscere l'autenticità della presenza di Gesù. A quel punto Gesù chiede a Simone Pietro mi ami più di costoro? È una domanda ricchissima di sfumature e che riporta Pietro e ciascuno di noi a vivere intensamente la dimensione dell'amore a partire dall'amore che costruiamo nella dimensione della trascendenza, dell'appartenenza alla infinita misericordia e benevolenza che Dio Padre ci dona e ci fa grazia riconducendoci alla dimensione dell'amore che è chiaramente contrapposto alla dimensione dell'appropriazione della violenza del potere. Mi ami tu più di costoro. E Simone dice tu lo sai che io ti voglio bene. E a quel punto Gesù dice pasci i miei agnelli, i miei agnelli. Non lo fa proprietario degli agnelli ma custode. Così come l'homo sapiens è stato posto a custodia del creato. Il creato non è sua proprietà eppure vediamo tutti i giorni e drammaticamente in questi giorni la pretesa degli umani nelle loro perversioni di essere padroni della terra. Tanto da potersi permettere di opprimere popoli, di invadere e devastare territori. Oggi noi lo vediamo nella contingenza della guerra di oppressione e di conquista russa nei confronti dell'Ucraina ma abbiamo chiuso gli occhi nei confronti delle decine di guerre attualmente presenti e che erano presenti anche nei decenni precedenti. Noi non abbiamo mai vissuto un tempo di pace autentica. Abbiamo vissuto una cultura della predazione rimanendo indifferenti perché non abbiamo saputo accogliere la dimensione dell'amore che precede la capacità di costruirlo nella relazione con il prossimo e con la terra. È una precondizione l'amore. Non è semplicemente un sentimento, un'emozione, un istinto, una passione. È una precondizione che l'umano è chiamato a scoprire e ad accogliere come dono e come grazia. E ancora una volta Gesù chiede a Simon Pietro «Mi vuoi bene?» Qui pone una domanda assoluta che riporta alla relazione tra noi e il figlio dell'uomo, colui che sta nel luogo del padre, nella dimensione dell'amore. E Gesù, Pietro risponde ancora «Sì, tu lo sai che io ti voglio bene, bene, pascola, le mie pecore, le mie pecore». Ancora una sottolineatura di una necessità di custodire e non appropriarsi. E per la terza volta Gesù chiede a Simon Pietro «Mi vuoi bene?» E Pietro rimane parzialmente addolorato perché evidentemente ha l'impressione di non convincerlo e però persiste ancora nel rispondere «Tu lo sai che io ti voglio bene?». Dunque, pasci le mie pecore». Ancora per la terza volta Gesù ribadisce questo. E Gesù ricorda a Pietro come noi viviamo in una giovinezza nella quale ci vestiamo da soli, siamo attraversati dalla sensazione dell'autosufficienza, ma verrà il tempo nel quale noi non lo saremo più. Siamo destinati a una fragilità che ci renderà non autosufficienti e ci condurrà anche alla fine del nostro percorso, alla morte, ma in una prospettiva che accoglie in sé il mistero della risurrezione dell'eternità della vita che Gesù ci ha donato attraverso la sua esperienza di figlio di Dio che si incarna nell'umanità e che manifesta una risurrezione costante giorno dopo giorno, portando in sé la sacralità di una vita che è eterna nella dimensione dell'amore. A quel punto Gesù semplicemente dice «seguimi» ed è un seguimi che riguarda ciascuno di noi, entrare in questa dinamica di trascendenza che accoglie la dimensione del risorto nella realtà della condivisione autentica, nell'ascolto, soprattutto attraverso i gesti e lo spirito che noi cogliamo della condivisione e della convivialità. Buona giornata a tutti.